Ok, allora in questo video voglio verificare quale sia la cosa migliore da fare durante un volo in traversone nel momento in cui si incontrano delle termiche. Ho fatto tre voli differenti, i primi due aglianti che partiranno sono due ghost di voli che ho fatto in precedenza, seguendo sempre la stessa rotta, andando sotto due cumuli, la differenza è che i primi due aglianti cercheranno di sfruttare l'ascendenza cabrando, mentre il terzo agliante volerà continuando a mantenere il volo rectilineo. Le condizioni che ho settato sono quelle di termiche intorno ai tre metri, gli aglianti sono gli sv27 a pieno carico d'acqua e il mecredico impostato è di due e mezzo per tutti i tre gli aglianti, quindi sia il primo agliante che il secondo andranno a queste velocità qua, con la differenza che i primi due cercheranno di delfinare sotto il cumuli, invece il terzo non delfinerà affatto. Ho fatto due prove prima con due aglianti che delfinassero perché ho pensato che mentre si lascia l'agliante ai 200 all'ora non si può sbagliare niente, piccoli errori si possono fare quando si cerca di sfruttare al meglio le ascendenze, quindi con due aglianti voglio provare che la soluzione migliore è quella di lasciare, almeno in queste condizioni con vento totalmente assente, è quella di lasciare l'agliante ai 200 all'ora e non toccare niente. Incontriamo adesso la prima termica, la distanza è 300 metri e 600 metri rispetto al primo e agliante, il primo agliante cabra, il secondo agliante cabra anche, il primo agliante l'ho superato, il secondo agliante ho ridotto la distanza di 200 metri ed è poco davanti a me. Mentre il primo agliante si posiziona dietro di me poco più alto, ma forse deve ancora prendere un pochettino di velocità, infatti appena prende la velocità corretta per il attraversone. L'unico effetto che ho ottenuto è stato quello di posizionarsi alla mia stessa quota e aver perso quei 300 metri che aveva di vantaggio. Adesso ho guadagnato qualcosina, ma non penso, penso che sia soltanto le oscillazioni dovute al settaggio della velocità corretta per me, credi, 2,5 quando poi dopo bisogna riuscire a riacquistare la velocità corretta dopo il traversone. Il primo agliante invece si trova là davanti, adesso faremo ancora un secondo cumulo e la cosa sarà nuovamente interessante. C'è un'ascendenza, ecco, dopo il primo volo c'è un'ascendenza nel blu tra qualche chilometro. Col primo agliante ho deciso di non sfruttare un'ascendenza che non aspettavo di trovare, quindi di lasciarlo andare tranquillo, mentre secondo agliante ho deciso di verificare se anche in un'ascendenza del genere cosa succedeva. Quindi c'è un'ascendenza, l'agliante che mi segue cabra un pochettino per cercare di delfinare su questa ascendenza non segnalata dal cumulo e tutto quello che ottiene è che perde ancora dei metri e mantiene la stessa quota che ho io che sto andando tranquillamente ai 200 all'ora seguendo bestialmente il McRae di due e mezzo. L'agliante davanti invece non ha ruttato delfinato sotto questa ascendenza e la distanza è rimasta invariata. L'agliante è il primo agliante che è stato il secondo a partire, quindi l'agliante che ho dietro alle spalle è il secondo che è partito. Io sono quello che è partito, io l'agliante in prospettiva adesso è l'agliante che è partito per terzo e davanti c'è l'agliante che è partito per primo. All'inizio c'erano 600 metri di stacco, dopo la prima termica sono diventati 400, arriviamo al secondo cumulo, l'agliante 1 delfinerà di nuovo, mantengo la velocità costante, entro nell'ascendenza e il risultato adesso è abbastanza spettacolare perché finita la sua delfinata l'agliante che è partito per primo si posiziona poco più avanti di me, esattamente alla mia stessa quota. Non vedo differenza di quota in questo momento. L'agliante che ho dietro è rimasto decisamente dietro. La mia idea è stata quella di pilotare con il primo agliante, questo qua in maniera normale, mentre con questo agliante qui ho cercato di pilotare sfruttando al massimo le ascendenze. e il terzo agliante invece è stato quello che è risultato volare in maniera più efficace e tutto quello che ha fatto è stato mantenere la velocità di 200 all'ora anche sotto l'ascendenza. Il risultato finale è questo. Abbiamo rubato i 600 metri nel tracciato di pochi chilometri senza aver delfinato sotto l'ascendenza. Abbiamo rubato i 600 metri nel tracciato di pochi chilometri senza aver delfinato sotto l'ascendenza.